Essenzialmente vorremmo essere stati più ascoltati, cosa che non è assolutamente capitato. Ci troviamo con una riforma che è molto ideologica. Oltre ai mugugni, proposte concrete sono quelle presentate dai medici, quanto mai uniti e compatti nella critica alla riforma sanitaria regionale, che intendono migliorare. Affiancato da una decina di specialisti, il presidente dell'Ordine Pandullo ha illustrato modalità e obiettivi dell'Osservatorio della Salute, che senza colorazioni politiche è aperto a tutti i medici e all'apporto della popolazione. Tra le criticità, balzate anche l'attenzione della cronaca, quella dei tempi d'attesa, infiniti al pronto soccorso. Un centro prime cure da realizzare quanto prima nel nuovo polo tecnologico potrebbe aiutare. Per quanto riguarda le criticità essenzialmente dell'ospedale, le code del pronto soccorso, pensando a un centro prime cure, già pensato a suo tempo, dove si riesce a intersetare prima del ricovero i bisogni della popolazione. Gli steward, o come vengono chiamati ora gli assistenti di sala, insomma, non bastano. Quello è sicuramente una cosa simpatica da vedere. Però voglio dire, ecco, sono persone che chiedono delle prestazioni, non chiedono sicuramente la persona che li tenga la mano. Chiedono anche quello sicuramente, però non solo quello. Tra i punti critici individuati è anche le liste d'attesa per le prestazioni specialistiche, fuori reparto, l'affollamento dei reparti da parte di pazienti fragili, cui potrebbe essere evitato il ricovero in molti casi, le tecnologie obsolete a disposizione dei nostri ospedali, i tagli indiscriminati delle risorse che portano a casi limite, come quello della morte di un uomo a Cividale con l'ambulanza rimasta del parcheggio, ma anche a disagi quotidiani che, secondo i medici, si combattono con l'appropriatezza delle cure. Con l'attesa dell'applicazione della riforma regionale, molte cose continuano ancora a essere molto critiche. Come professionisti abbiamo deciso, ognuno nel suo campo, quindi internista, il chirurgo, il medico dell'emergenza, di proporre alcune semplici cose, anche realizzabili. E cercare di evitare gli esami inutili, quelli che pesano in maniera appunto inutile, in maniera futile e costosa alla sanità pubblica.